In Serie D sono stati ufficializzati otto ripescaggi. Salgono d'ufficio in quarta serie gli emiliani del Sasso Marconi, i lombardi dell'Olginatese, gli abruzzesi del Francavilla, i marchigiani della Recanatese, i toscani della San Giovannese, i siciliani della Cireale, infine i calabresi della Roccella e della Cittanovese. Otto ammesse dall'eccellenza, atto preliminare alla composizione dei raggruppamenti che ormai prossima avverrà infatti venerdì prossimo. Prime date ufficiali saranno il turno preliminare di Coppa Italia del 20 agosto e lo start al campionato previsto per il 3 settembre. Alcune delle otto ripescate potrebbero essere avversarie delle molisane di quarta serie. Dovesse essere confermato il girone F come quello di appartenenza, ecco che Recanatese e Francavilla sarebbero sicuramente opposte a Campobasso ed Olimpia Agnonese. Non dovrebbero registrarsi novità sui nove gironi di quarta serie, la geografia calcistica non dovrebbe essere oggetto di scossoni. L'unica novità, frutto anche di alcune indiscrezioni, potrebbe essere, a proposito delle molisane di serie D, il distacco dalle emiliane che lo scorso anno erano presenti nel girone F in quattro unità, cioè Alfonsine, San Maurese, San Marino e Romagna Centro, tra l'altro una di queste, l'Alfonsine, è retrocessa in eccellenza. Il Campobasso sta ultimando la fase iniziale della preparazione, sono tanti i giocatori che toccano il ritiro campano di Serino che terminerà sabato prossimo. Foglia Manzillo sta valutando una serie di giocatori utili all'organico rosso-blu, per ora completato a metà. La squadra migrerà in Molise lunedì prossimo, nel frattempo sono attese altre ufficializzazioni per la fine di questa settimana. Alla rossa sembrerebbero mancare almeno tre senior nei ruoli chiave, cioè quelli di centrocampo ed attacco. A livello societario si sta costituendo un'intelaiatura che ancora non viene resa nota alla piazza. Ieri la squadra ha ricevuto la visita di uno dei nuovi proprietari, Marco De Lucia e Daniello Aliberti, che dall'11 luglio scorso è socio di minoranza del Campobasso. Stamane abbiamo sentito a telefono Luigi Pavarese, dirigente molto vicino alla famiglia De Lucia, che ci ha confermato la serietà della nuova proprietà rosso-blu. Pavarese stesso, per ora ancora appartenente allo staff del Modena, non nasconde che un ruolo ufficiale all'interno del Campobasso non potrebbe fargli altro che piacere, ma l'annuncio di un suo ingresso ancora non si registra. L'annone ha vissuto ieri pomeriggio una giornata spartiacque a livello societario. Ci sarà una proprietà tutta nuova che garantirà la disputa della quarta serie in Alto Molise. C'è stato il concorso di tante forze, ma soprattutto l'opera di mediazione del sindaco Marco Vecchio e dell'ex presidente Granata Carmine Masciotra, che hanno così risollevato l'annone da una situazione che si stava facendo davvero seria e preoccupante.